Devo dire abbiamo visto un pubblico veramente molto di qualità, molto interessato, abbiamo lavorato veramente molto bene. Poi il fatto di essere qui tutti uniti con 158 aziende della FIVI ha portato un risultato a tutti perché diventa un polo di aggregazione per chi cerca i vini dei produttori artigianali, i vini delle piccole aziende, delle aziende familiari, delle aziende che coltivano la loro vigna. Ha funzionato tutto molto bene.